Un nuovo decesso nella notte nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Campobasso. Un anziano che era ricoverato al Cardarelli si aggiunge così al triste e lungo elenco delle persone che non hanno sconfitto il covid. Il numero complessivo dei decessi è arrivato in Molise a 167. Ieri erano state quattro le vittime delle quali tre persone anziane e un uomo disernia di 45 anni. Resta tuttavia contenuto il rapporto dei casi positivi in relazione al numero dei tamponi effettuati. 37 i nuovi casi su 503 test effettuati che valgono il tasso del 7%. Migliorano leggermente le condizioni del ragazzo di 16 anni di termoli trasferito nel reparto di terapia intensiva. 69 i pazienti guariti riportati nell'ultimo bollettino. Intanto c'è attesa per le decisioni del governo circa le nuove restrizioni che potrebbero essere decise per le feste di Natale. Le ipotesi sul tavolo sono due. Una quella di considerare tutta Italia arancione con bar e ristoranti chiusi, limiti negli spostamenti e negozi aperti e coprifuoco anticipato alle 20 o alle 18. Seconda soluzione più drastica, lockdown nei fine settimana a rischio. Il primo potrebbe essere il prossimo in cui si esodi fra le regioni. Quello del 24 e 25 dicembre, il 31 dicembre e l'Epifania. Una linea questa condivisa dai ministri della Salute e Speranza e delle regioni boccia. Una scelta che Conte dovrà intrecciare con la verifica di governo già slittata a venerdì e con le polemiche seguite ai contributi per chi paga con le carte di credito e ottiene i rimborsi mentre si criticano gli assembramenti e la calca nei negozi che ovviamente in questi giorni di festa sono presi d'assalto.